Il trattamento delle cardiopatie strutturali con tecniche transcatetere sicuramente sta diventando sempre di più qualcosa di comune nelle cardiologie e nelle emodinamiche. Devo dire che dal mio punto di vista quello che fa la parte principale è ovviamente il trattamento della stenosi valvolare aortica con la TAVI, questo perché negli ultimi mesi diciamo ma anche negli ultimi negli ultime settimane sono usciti degli studi estremamente interessanti che hanno ampliato in maniera significativa la fetta di pazienti che possono accedere a questo tipo di trattamento. Se all'inizio della nostra esperienza con la TAVI eravamo abituati a trattare pazienti che avevano un rischio chirurgico proibitivo o addirittura una controindicazione dell'intervento chirurgico oggi sappiamo che anche i pazienti a rischio intermedio sono pazienti che possono beneficiare di questo trattamento con una ottima prognosi e con risultati che non sono inferiori alla cardiochirurgia e ci sono anche dei lavori che ci pongono la possibilità, il dubbio diciamo di poter trattare anche pazienti a basso rischio con questa tecnica. Quindi sicuramente da questo punto di vista possiamo aspettarci un aumento del numero di procedure, cosa che già stiamo vedendo, sarà da valutare l'impatto che questo ha sulla economia perché sappiamo che la TAVI ha un problema di costi e quindi sicuramente bisognerà fare un ragionamento a tutto tondo, ma indubbiamente i dati clinici che abbiamo a disposizione nel trattamento con TAVI dei pazienti con stenosi valvolare ortica severa anche a rischio intermedio e probabilmente a basso rischio sono estremamente interessanti e saranno un punto di partenza per i prossimi studi e per le prossime linee guida. Altro aspetto importante nel trattamento delle cardiopatiche strutturali è ovviamente tutto quello che riguarda la valvola mitralica, ad oggi siamo nettamente più indietro rispetto al trattamento della valvola ortica, ci sono comunque nuovi dispositivi che si affacciano sul campo di gioco, soprattutto quello che stiamo aspettando sono le protesi transcatetere, ce ne sono in fase di studio ancora con moltissime limitazioni da un punto di vista anatomico, però indubbiamente questo è un campo che andrà espandendosi. Quello che abbiamo imparato dagli studi fatti col sistema MitraClip è che anche pazienti con rischio chirurgico elevato e insufficienza mitralica funzionale, se ben selezionati e questo è il punto principale, possono avere un netto beneficio in termini di miglioramento sia della qualità che della quantità di vita. non posso non parlare della chiusura dell'auricola sinistra perché anche questo è un trattamento di una cardiopatia strutturale che sta incrementando in termini numerici, anche in questo caso io penso che dobbiamo essere molto stretti sulle selezioni dei pazienti, ci sono comunque una quantità di pazienti con fibrillazione atriale non valvolare che non possono assumere gli anticoagulanti o che hanno un rischio emorragico alto in cui la chiusura dell'auricola è indubbiamente indicata e i dati che abbiamo a disposizione sulla base dei trial randomizzati che sono piuttosto vecchi ma di una serie di registri molto più recenti ci fanno capire che è una procedura che ha delle complicanze che si stanno abbassando molto e che oggi possiamo fare in sicurezza nei centri e dagli operatori che hanno una expertise adeguata. E concludo con quello che è un po' quello che ci ha fatto iniziare il trattamento delle cardiopatie strutturali, cioè il PFO. Probabilmente abbiamo iniziato a trattare le cardiopatie strutturali chiudendo il PFO, questo diverse decine di anni fa. Oggi abbiamo dei dati che rafforzano l'evidenza del trattamento transcatetere del PFO nei pazienti che hanno già avuto un evento ischemico e quindi la prevenzione secondaria di un evento ischemico cerebrale chiaramente diagnosticato ed in valutazione collegiale con il neurologo non è più la terapia medica ma in chi ha un PFO è il trattamento transcatetere.